Allora, oggi 20 ottobre 2023 il sindacalismo di base, la FLA in testa, scioperano all'aeroporto di Venezia per rivendicare ancora una volta la mancanza del rinnovo del contratto, scaduto da oltre 8 anni e mezzo. I lavoratori sono sempre più determinati ad avere un rinnovo del contratto, che sia un buon rinnovo del contratto, con soldi reali in tasca. Non ci fermeremo fino a che non otterremo una piena soddisfazione di quanto noi, anche il comparto della sicurezza si unisce allo sciopero di oggi, 20 ottobre, in sostegno di tutto il comparto aeroportuale. Siamo ridotti a costipendi da fame e non è più possibile andare avanti. La sicurezza in questo contesto mondiale è un punto fermo per poter garantire la sicurezza a tutti gli utenti e siamo lasciati allo sbacco. È ora di dire basta a contrattazioni vergognose e dare dignità ai lavoratori e alle loro famiglie.